Oggi in questa dolorosa via crucis della nostra patria siete voi cari medici, cari infermieri, osse, volontari addette alla sanificazione a svolgere questo compito di consolare e aiutare a portare questa pesante cruce. Queste le parole di Don Alvaro Bardelli, sacerdote di riferimento della Chiesa Retina che in questo momento di emergenza ha deciso di dedicare una preghiera al personale sanitario e agli addetti alla sanificazione tutti i giorni in prima linea nella lotta contro il virus. Cristo e la sua madre addolorata ve ne sono grati e soffrono insieme a voi. Non vi sentite soli in questa vicenda misteriosa che cambierà il mondo. Quando vi sentirete scoraggiati e oppressi da questo peso saranno loro da asciugarvi il sudore e a riprendere la croce. Gesù, Eucaristia, presente nella cappella del vostro ospedale, è la fonte della vostra forza e del vostro coraggio. Noi preghiamo perché il Signore abbia misericordia di noi ed affretti la fine di questo male. Vi affido al cuore immacolato di Maria perché vi protegga e vi custodisca, voi e i vostri cari. Grazie. Grazie.